e ben ritrovati su trm h24 una nuova edizione del nostro notiziario in apertura ci occupiamo di lavoro ed andiamo subito a melfi in provincia di potenza dove si trova il nostro collega giuseppe cutro a te giuseppe per raccontarci quanto sta accadendo in queste ore buongiorno maria cristina sì come potete vedere alle mie spalle ci sono i cancelli dello stabilimento di melfi di stellantis oggi è iniziato un volantinaggio da parte dei sindacati un accordo storico e unico oppure un accordo anomalo sono questi termini diversi con i quali le parti sociali definiscono il rinnovo del contratto che è venuto lo scorso 8 marzo a torino tra alcuni sindacati e la multinazionale abbiamo qui con me la segretaria della firma cgl giorgia calamita sindacato che non ha sottoscritto il rinnovo contrattuale in sintesi segretaria grazie innanzitutto della sua presenza cosa lamentate lamentiamo il fatto che questo contratto ha dato delle risposte non ha dato delle risposte positive ai lavoratori a partire dal salario il mantenimento occupazionale soprattutto la questione dei diritti e quindi c'era la necessità di superarlo questo contratto soprattutto oggi in una fase così delicata dove c'è un problema serio di tenuto occupazionale di tutto il gruppo e in particolar modo qui a melfi noi rivendichiamo una contrattazione diversa che possa unire i lavoratori per rivendicare il lavoro il miglioramento delle condizioni di lavoro dentro le fabbriche e il salario perché di cassa integrazione si è fatta troppo e non è più possibile continuare a scaricare sui lavoratori le inefficienze delle aziende invece di parlare opposto la Wilm con le altre sigle sindacali che hanno sottoscritto l'accordo qui con me Marco Lomio segretario regionale Wilm Basilicata grazie anche a lei Lomio allora un accordo storico l'avete definito? Un accordo storico perché per la prima volta ha un aumento salariale di 210 euro medi in solo otto mesi significa il recupero totale dell'inflazione una tantum di 600 euro in più uno medio medio di premi di produzione del più del 30 per cento se questo non è un accordo storico veramente facciamo fatica a capire perché pensiamo veramente di aver fatto un lavoro straordinario grazie Lomio Cristina un tema sensibile questo del lavoro qui nella zona industriale di San Nicola di Melfi che riguarda non solo i lavoratori Stellantis ma anche quelli dell'ex Oshan sul tema si è anche pronunciato il vescovo di Melfi don signor Ciro Fanelli che noi abbiamo intervistato stamane a Rio Nero prego la regia di lanciare il servizio e poi ti restituisco la linea eccellenza un suo messaggio di speranza e di vicinanza per quelle che sono le sorti dei lavoratori sia di Stellantis che dell'ex Oshan ecco sì la mia voce la voce della chiesa locale che non poteva mancare in questo momento così difficile di trepitazione e di preoccupazione come ho detto nel comunicato che è uscito ieri 13 marzo ecco questa trepitazione questa preoccupazione però è anche speranza speranza che per il nostro territorio e per il mezzogiorno dell'Italia ci possano essere percorsi veramente capaci di garantire il diritto al lavoro il diritto al lavoro che riguarda tutti coloro che già hanno un lavoro e non devono temere di perderlo e coloro che sono in cerca di un lavoro in modo particolare i giovani del nostro mezzogiorno qual è il suo auspicio il mio auspicio è che ci sia quel lavoro di cui parla a Papa Francesco ripetutamente nei suoi documenti cioè un lavoro libero un lavoro creativo un lavoro responsabile cioè un lavoro che sia di promozione della persona e di valorizzazione del territorio e continuiamo ad occuparci di lavoro ma veniamo in Puglia i dipendenti della GNW Electric di Foggia hanno ripreso lo sciopero i dipendenti chiedono la sospensione della procedura dei licenziamenti che scattano il prossimo 31 marzo. Il 31 marzo si apre il barato del licenziamento per i 114 dipendenti della GNW di Foggia azienda specializzata nella produzione di forniture elettriche. Da ieri i lavoratori sono di nuovo in sciopero e in presidio permanente per chiedere la sospensione della procedura di licenziamento e la cassa integrazione. Lo sciopero è dettato dal fatto che i lavoratori fino ad oggi non hanno avuto risposte concrete abbiamo delle commesse in essere abbiamo un tempo che addirittura potrebbe superare le procedure per cui insomma in questo momento rischiamo di arrivare ai licenziamenti continuare la produzione e smembrare la forza lavoro. I dipendenti temono ritardi sull'azione della regione Puglia che ha aperto la task force sulla crisi dopo che la proprietà americana subentrata alla Tozzi ha messo in liquidazione l'azienda nel gennaio scorso. Si spera in un nuovo imprenditore che comunque sia soprattutto del settore e che possa risollevare le sorti di questa azienda. La speranza è che si possa ritornare a produrre come lo si è fatto in questi tempi soprattutto in fase di covid. Questo lascia significare che è un prodotto che non ha scadenza. Si cerca un nuovo compratore per una realtà imprenditoriale che non ha perso commesse e di eccellenza e a forza lavoro specializzata. L'unica cosa che bisogna fare è cercare degli imprenditori seri che sappiano ben sviluppare il prodotto e dare la possibilità secondo me non solo a noi che lavoriamo ma addirittura la possibilità ancora ad altri di venire a lavorare per questa azienda. Quindi noi non crediamo assolutamente che un'azienda in un settore di sviluppo come quello nostro possa poi finire nel nulla. La cronaca adesso. Ci occupiamo di mafia foggiana. Un blitz della Guardia di Finanza di Pescara ne ha portato agli arresti otto esponenti di spicco che avevano esteso la loro attività criminale fino alla provincia abruzzese. Otto arresti di cui quattro in carcere e quattro ai domiciliari sono stati disposti nei confronti di esponenti di spicco della Cosca, nota come società foggiana. A questi si aggiungono un obbligo di dimora e due obblighi di firma, oltre a sequestri di due immobili a Pescara e Grusseto, 300.000 euro in contanti e le quote di cinque società operanti pescarese per un valore complessivo di 2 milioni di euro nella disponibilità del sodalizio criminale. È il risultato di un'operazione condotta tra Pescara, Foggia e Grusseto dalla Guardia di Finanza di Pescara con la collaborazione delle Fiamme Gialle Foggiane, in seguita un'indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia. I pedinamenti e le intercettazioni di oltre 700.000 conversazioni hanno permesso di far emergere attraverso i reati di usura, estorsione, ricettazione e intestazione fittizia di beni, le ramificazioni nella provincia di Pescara del clan Moretti-Lanza-Pellegrino. La cosca foggiana si sarebbe infiltrata nel tessuto economico locale con il metodo mafioso, sottoponendo a minacce, aggressione ed estorsioni gli imprenditori del posto. Tra le vittime il titolare di una nota attività di ristorazione del pescarese, che sarebbe stato sottoposto a tassi di interesse fino al 600% al mese, per un prestito di 100.000 euro. Non potendo pagare il debito, gli imprenditori sarebbero stati costretti a chiudere la partita con gli strozzini, simulando prima un comodato a uso gratuito a tempo indeterminato e poi un contratto di affitto dell'appartamento di proprietà nel centro di Pescara, dal valore di circa mezzo milione di euro. 22 persone legate al clan Mercante Diomede e Capriati sono state arrestate all'alba di oggi a Bari, Bitonto e in altre località del territorio nazionale, dopo che sono diventate definitive le condanne emesse dalla Corte d'Appello di Bari nell'ambito del maxiprocesso Pandora. Le persone condannate devono espiare complessivamente 140 anni di carcere. E proseguiamo con la cronaca. Dieci imprenditori sono stati denunciati per una frode allo Stato da oltre 26 milioni di euro. a condurre le indagini la Procura di Bari. Dieci persone sono state denunciate in un'inchiesta condotta dalla Procura di Bari per una presunta frode fiscale in cui sono coinvolte sette imprese operanti nel settore della lavorazione del legno e del commercio all'ingrosso di pallets. Secondo le indagini sarebbe stato creato un sistema di frode per ottenere vantaggi fiscali in seguito all'utilizzo di fatture per operazioni ritenute inesistenti con oltre 26,5 milioni di euro di tassazione di imponibile sottratta al fisco. Gli indagati sono accusati a vario titolo per utilizzo di fatture per operazioni inesistenti omessa a un fedele dichiarazione, occultamento e distruzione di documentazione contabile. L'inchiesta è partita in campagna e ha permesso di accertare uno schema che attraverso un sistema di frode carosello emetteva documentazione di costi di società fantasma rappresentate da prestanome che spesso erano nullatenenti o con precedenti penali o di polizia. Queste imprese dunque sarebbero state costituite soltanto per consentire ad altri operatori economici di evadere le imposte attraverso la falsa giustificazione contabile di cessioni di beni mai avvenute. Oltre a un primo sequestro preventivo disposto dal GIP e del Tribunale di Bari, gli investigatori hanno avanzato ulteriori proposte di sequestro. Torniamo in Basilicata. Ha preso fuoco la notte scorsa nell'agro di Venosa a Boreano un casolare. La zona è quella dove trovano alloggio i migranti impiegati nel lavoro dei campi. Sentiamo. Paura nella notte nel territorio di Boreano a Venosa per l'incendio divampato in un casolare, uno dei tanti alloggi di fortuna dove trovano dimora i migranti occupati nel lavoro dei campi. A darne la notizia Francesco Castelgrande dell'Associazione Migranti Basilicata, ancora una volta dice che siamo stati profeti di facili sventure. Soltanto venerdì avevamo segnalato l'arrivo di braccianti per le prossime campagne stagionali e l'accoglienza di questi lavoratori in sistemazioni precarie. Al momento sono già una cinquantina i braccianti migranti arrivati. Nel casolare in cui divampato il fuoco sono state trovate diverse bombole di gas che i migranti utilizzano per cucinare e che sarebbero potute esplodere. È stata evitata quindi, dice, grazie all'arrivo di carabinieri e vigili del fuoco, una tragedia. Era presente sul posto anche la sindaca di Venosa, Marianna Giovanni. A quando la realizzazione dei centri di accoglienza di Boreano e Lavello, dice Castelgrande, i soldi ci sono, i progetti a che punto sono arrivati, non dovevano essere già realizzati nel 2020. Come mai la legge regionale 13 del 2016 non è mai stata finanziata? La legge regionale ricorda che ha come finalità norme per l'accoglienza, la tutela e l'integrazione dei cittadini migranti e dei rifugiati. Si possono evitare gli incendi e i ghetti in Basilicata, ha aggiunto Pietro Simonetti, presidente del Centro Studi Ricerche Economico-Sociali, contattato telefonicamente. Basterebbe entro poche settimane aprire il centro di accoglienza di Palazzo San Gervasio, per esempio con 350 posti, mettere in campo iniziative per l'area metapontina che è scoperta da due anni. Tutto questo con fondi regionali, tutto questo con fondi regionali, visto che i fondi europei sono finiti, dice Simonetti, da inserire nel bilancio regionale 2023 in corso di definizione. Ma soprattutto, dice ancora Simonetti, si procede all'appalto dei lavori di realizzazione dei nuovi centri di Boreano, Gaudiano e dal completamento del Centro della Pace sbloccato alcuni mesi fa. Il finanziamento, accordato dall'Unione Europea, attraverso il PON Legalità, è di circa 12 milioni di euro per realizzare 450 posti, con tutti i servizi innovativi previsti. Se non si fa questo, si aiuta i caporali. Andiamo ora a Taranto. Nel corso della diciannovesima giornata della sicurezza, si è svolto un incontro in cui sono stati illustrati gli impegni di Asle, Prefettura, Inail e Formedil nel contrasto agli infortuni sul lavoro. Asle Taranto, Formedil Taranto, la direzione generale Inail Puglia e la Prefettura Ionica hanno organizzato un incontro dal titolo Le azioni virtuose per la prevenzione in occasione della diciannovesima giornata della sicurezza. Una sicurezza tutto tondo che andrebbe affrontata in tutte le sue sfaccettature, ma in questa giornata ci si è concentrati su quella sul lavoro. Ci stiamo attrezzando attraverso un documento di autocertificazione che avranno tutte le imprese, tutte le aziende e che devono poi anche aggiornare rispetto a quelle che poi sono le valutazioni dei rischi. Oggi presentiamo un'ulteriore tappa di questo intervento esteso che stiamo portando avanti insieme e che è appunto proprio lo scopo di garantire ai lavoratori, soprattutto in agricoltura, condizioni di lavoro dignitose, ma anche che siano avanzate rispetto al nuovo tipo di lavoro che ci sarà in agricoltura. Per quanto riguarda l'edilizia, noi abbiamo istituito come forme insieme all'INAIL Puglia il bollino sicurezza cantieri che è una sorta di riconoscimento alle imprese che accettano di far entrare i nostri tecnici all'interno del cantiere per verificare i livelli di rischio. Nel corso dell'incontro l'INAIL ha presentato le tipologie di infortuni maggiormente diffuse tra gli operai. Essenzialmente si tratta di malattie muscoloscheletriche quindi legate a movimenti ripetuti, a posture. È un fenomeno recente, quindi abbastanza nuovo che ha superato alcune tematiche come le otopatie ma che in qualche modo merita di essere affrontato nella giusta misura anche in questo caso come misure prevenzionali. E restiamo a Taranto. 2 milioni di euro per il Parco delle Arti e della Musica per le aree verdi cittadine e per le start-up del progetto Faros. È il risultato di due accordi tra il Comune, Leni e Temparossa. Oltre 1.800.000 euro per gli ex baraccamenti cattolica di Taranto per le aree verdi in città e per le start-up del Porto. È il frutto di due accordi tra il Comune ed Eni e con i partner del gruppo Temparossa, Total Energies, Shell Italia e Mitsui in esecuzione del protocollo l'intesa per la cooperazione economica e sociale legato all'intervento Temparossa per il triennio 2020-2022. Per l'amministrazione il vero risultato è l'aver cambiato i rapporti tra territorio, comunità e grandi gruppi industriali. Grazie ai fondi in questione, infatti, nell'area dei baraccamenti sorgeranno un teatro, laboratori, un distretto dell'innovazione e una piazza multimediale, dando vita al Parco delle Arti e della Musica. Ci saranno poi nuove aree verdi e sarà potenziato Faros, l'acceleratore di start-up che opera all'interno delle aree portuali. Non si tratta, insomma, di un banale trasferimento di risorse, spiega il sindaco Rinaldo Melucci. Queste importanti realtà economiche hanno deciso di accompagnare dinamicamente il nostro percorso di transizione, utilizzando questi accordi come una moderna leva di sviluppo. Gestendo così il rapporto con questi stakeholder, sottolinea quindi il sindaco, abbiamo dimostrato come si possa investire sul territorio lasciando un segno positivo e come le comunità siano soggetti con i quali interagire in maniera costruttiva. Infine, conclude il sindaco, nonostante il ritardo causato dalla caduta anticipata della Giunta, che ci ha costretto a far ripartire la negoziazione, abbiamo chiuso questa fase e siamo già al lavoro per il prossimo triennio. Crediamo di essere riusciti a invertire una tendenza e inaugurare una modalità tutta nuova di consolidare le relazioni con chi investe nel territorio. La sanità adesso è stato presentato un imponente programma di interventi previsti per la città di Bari, finanziato con i fondi del PNRR. È stato illustrato questa mattina in comune dalla Slobaresa. L'obiettivo è quello di potenziare i servizi sanitari, territoriali e ospedalieri. A questo punta il nuovo programma di interventi da poco meno di 60 milioni di euro previsto dalla ASL per la città di Bari. Un piano finanziato con fondi PNRR da realizzare entro il 2026, precisamente 59,8 milioni su 172 milioni complessivi destinati alla ASL barese. Alla presentazione del piano nel comune del capoluogo pugliese, anche il sindaco Antonio De Caro e l'assessore alla sanità della regione Puglia Rocco Palese, che insieme al direttore della ASL Bari Antonio Sanguedolce hanno sottolineato il cambio di rotta sul quale non poco ha influito l'esperienza del Covid che in questi anni ha messo a dura prova il sistema sanitario. Quello che è emerso dalla pandemia in maniera molto chiara è che è l'argomento che dovrebbe interessare tutti. riguarda come cercare di avere un modello di organizzazione sanitaria soprattutto di quella territoriale. I punti più importanti sono la previsione di cinque case di comunità e di un ospedale di comunità. Noi abbiamo dislocato nella progettazione una case di comunità per ogni municipio e un ospedale di comunità che avrà 40 posti letto. Durante l'incontro è stato sottoscritto un protocollo d'intesa con cui il comune di Bari cede alla ASL immobili di proprietà dell'amministrazione comunale. Saranno riqualificati per diventare sedi di case e ospedali di comunità. Sono distribuiti su tutto il territorio cittadino. Si va dall'ex mercato Carrante che sarà casa di comunità e anche ospedale di comunità a dei presidi che già esistono come il presidio del San Paolo di via Cacudi dove c'è già un primo esempio di quella che chiamavamo Casa della Salute con i medici di base, consorziati e che offrono un servizio durante l'arco della giornata ai cittadini di quel quartiere. Via Aquilino, un'altra struttura già esistente che viene ampliata e si trasforma in casa di comunità nel quartiere Iapigia. Via Lopez è un altro immobile che mettiamo a disposizione della ASL sempre per una casa di comunità e poi ci sono delle altre strutture che non saranno case di comunità ma le mettiamo a disposizione dell'azienda sanitaria locale per altri servizi. E sempre a Bari è stato presentato nella sede Lilt un progetto per la riabilitazione dei pazienti oncologici. L'iniziativa rientra nella collaborazione tra Lilt Bari e il presidio di riabilitazione San Giovanni di Dio di Adelfa. Si chiama RIBES, acronimo di riabilitazione, benessere e salute ed è un progetto pensato per assistere i pazienti oncologici. L'iniziativa presentata nella sede della Lilt Bari è nata dalla collaborazione della Lega Italiana per la lotta contro i tumori e il presidio di riabilitazione San Giovanni di Dio di Adelfia. La Lilt intende perseguire la terza mission della sua natura ossia la prevenzione terziaria per cui è un progetto sul quale stiamo lavorando con la San Giovanni di Dio e il loro centro riabilitativo di Adelfia da diversi mesi. Intendiamo quindi dare assistenza, supporto, accoglienza al paziente oncologico nella fase post-intervento chirurgico. Qualunque paziente purtroppo affetto da tumore, di qualunque tipo, bene o male ha necessità di un trattamento di fisioterapia dopo il trattamento più idoneo per la sua patologia. Chiudere con quest'anello una catena e fare un cerchio e seguire il paziente dall'inizio purtroppo e poi va meglio fino a quando si può. Il progetto è dedicato al recupero psicofisico individuale del paziente oncologico grazie ai diversi sistemi di riabilitazione e alle attrezzature all'avanguardia di cui dispongono gli ambulatori della San Giovanni di Dio. Il supporto psicologico, cioè sapere che c'è qualcuno che si preoccupa del paziente con tumore, questo già lo solleva. Quindi diciamo che non è solo l'apporto psicologico ma comunque è un fattore fortemente protettivo. Quindi si riesce ad agire su questi pazienti gratuitamente in maniera efficace, quindi io non posso essere che felice di questa collaborazione che si sta creando. E dal 14 al 24 marzo in Piazza del Ferrarese a Bari è possibile visitare la mostra Exploring Moon, un'occasione anche per scoprire le professionalità più richieste nel mondo dell'aerospazio. Esperti dello spazio cercansi. Il settore aerospaziale è in continua espansione e tra Puglia e Basilicata le opportunità di formazione non mancano. In Piazza del Ferrarese a Bari è approdato un piccolo spaccato di universo grazie alla mostra Exploring Moon to Mars organizzata dall'Agenzia Aerospaziale Italiana con il patrocinio di Regione Puglia e Comune di Bari. Scenari sicuramente interessanti soprattutto qui per la Regione Puglia dove esiste sicuramente un settore formativo di corsi di laurea, dottorati, borse di studio sulle tematiche spaziali e molti colleghi del nostro centro di Matera hanno studiato tutti qui a Bari. I profili sono quelli scientifici quindi ingegneria, fisica, matematica ma anche, devo dire, anche settore in materie di tipo più amministrativo e gestionale. La Puglia è una realtà importante anche in termini di aerospazio. Ci sono tante realtà sia industriali sia accademiche che lavorano in maniera importante su queste tematiche. L'altra è che lo spazio non è soltanto un elemento di fantasia. C'è tutta un'economia oggi che è legata allo spazio e ci sarà un'economia che cresce e crescerà sempre di più. Un viaggio lungo migliaia di anni e centinaia di chilometri racchiuso nelle prime immagini delle sonde spaziali fino alle missioni Apollo, ai rover Curiosity e Perseverance e all'attuale programma Artemis. La mostra è pensata soprattutto per i ragazzi, per il grande pubblico, perché sanno molto poco delle tappe di questa esplorazione. Ci sembra che le missioni Apollo siano note ma poi parlando con i ragazzi ti accorgi che non è molto conosciuto. Parliamo soprattutto del nuovo programma che vede l'Agenzia Spaziale Italiana in primo piano con il programma Artemis, la missione Artemis che si è appena conclusa e che riporterà l'uomo sulla Luna. La Facoltà Teologica Pugliese e l'Università degli Studi di Bari hanno organizzato un convegno dal titolo sulle sponde del Mediterraneo. All'incontro è intervenuto anche il presidente della CEI, Matteo Zuppi. Mediterraneo come luogo di dialogo e di pace è il tema al centro della riflessione della Facoltà Teologica Pugliese che insieme all'Università degli Studi di Bari ha organizzato nell'Aula Aldomoro di Giurisprudenza l'incontro dal titolo sulle sponde del Mediterraneo Teologie e prassi di dialogo, di inclusione e di pace. Al convegno ha partecipato anche il presidente CEI, Cardinal Matteo Zuppi. Credo che la saggezza, la sapienza, la storia, la geografia ci chiedono di avere questo ruolo e di aiutare l'Europa a capire il Sud l'Europa a restare unita all'Est e a rifare di questo nostro mare il mare nostro e non un mare che diventa un mostro. Sulle ultime tragedie nel Mediterraneo a steccato di Cutro e a largo delle coste libiche è intervenuto anche l'arcivescovo di Bari Bitonto Monsignor Giuseppe Satriano. La conformazione del Mediterraneo evoca con chiarezza che non possiamo più gestire le politiche immigratorie in un atteggiamento difensivo. Purtroppo negli ultimi 20-30 anni questo discorso non è stato affrontato da nessuna compagine politica in maniera attenta sapendo invece e potendo anche integrare e includere questo fenomeno in un percorso di sviluppo della nostra società con tutte le esigenze che questo comporta ma anche con tutte le opportunità che questo potrebbe far scaturire. Quindi io credo che il tema del dialogo il tema dell'inclusività il tema del mettere insieme le persone senza paura credo che sia un tema che dobbiamo rimettere all'ordine del giorno. E torniamo in Basilicata Miglionico è tra le finaliste del programma RAI Il Borgo dei Borghi si può votare online fino a domenica 26 marzo. Il comune di Miglionico è l'unico della Basilicata a concorrere nella finalissima della decima edizione del concorso nazionale la Borgo dei Borghi 2023. Mi ha dato notizia l'amministrazione comunale che ha invitato i Lucani ad esprimere la propria preferenza. E' arrivato il momento ha commentato l'assessore comunale alla cultura Giulio Traietta di sostenere Miglionico è un bellissimo momento di coinvolgimento per la nostra comunità e siamo davvero onorati di rappresentare la Basilicata in un contesto nazionale. Vincere dipenderà solo dal sostegno che i Lucani vorranno darci. Il voto si può esprimere fino a domenica 26 marzo alle 23.59 sul sito www.rai.it Borgo dei Borghi dove è prevista una pagina di presentazione dei 20 borghi in gala. Si può esprimere un voto al giorno. La classifica finale sarà comunicata durante una prima serata speciale in onda su Rai 3 domenica 9 di aprile del 2023. Ed è tutto per questa edizione. Ci fermiamo qui. Grazie per averci seguito.